Questa mattina Decidiamo di tornare nello spot che il giorno prima ci aveva regalato tantissime emozioni e molte belle catture Le condizioni dell'oceano oggi sono sicuramente molto più calme Infatti vi posso dire che non era per niente pericoloso e per niente estremo Questo fattore ha portato sicuramente all'arrivo di molti pescatori sullo spot e di molte persone E a sua volta questo ci ha costretto a dover cambiare spot nell'arco della giornata Inizio la mia pescata cercando di sondare gli strati più superficiali dell'acqua Infatti vado ad utilizzare esche come jerk, come minno e come stick affondanti Lanciando nelle schiume e nelle risacche Però a quanto pare sembra una sensibilità quindi non ottengo nessuno strike Successivamente quindi a cambio luce decido di cambiare totalmente approccio Decido di andare a sondare gli strati più inferiori dell'acqua andando a strisciare sul fondo con una gomma Quindi cambio esca e quello che succede non state per vedere Proviamo nella schiumata Grazie a tutti 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 Sto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti